Ha ragione, hanno permesso che catturassero i loro mezzi e i loro umanoidi, chiamiamo i grigi, eccetera. Sono questi, Loredana, quelli che hanno catturato loro, l'unico incidente reale dove sono morti extraterrestri, noi sappiamo essere stato un attacco fatto dai militari russi a una vera famiglia extraterrestre, fu recuperato, i genitori morirono nell'attacco e fu recuperato il bambino che fu espulso dalla nave con una capsula di salvataggio, fu recuperato, il bambino fu chiamato Cosmik dai sovietici, però morì per le infezioni a causa del nostro ambiente estremamente inquinato. In tutti gli altri casi di cadute di aeromobili extraterrestri erano entità, erano dei cloni, cioè non erano veri extraterrestri, che erano entità, infatti li chiamano entità biologiche, EBE in inglese, entità biologiche extraterrestri, IBI poi corrisponde all'italiano, erano dei test per vedere come reagiva il potere di fronte alla prova provata dell'astronave in pugno. Infatti nei documenti militari e soprattutto le lettere che si scambiano il generale Marshall, capo di Stato Maggiore e Roosevelt, sai cosa si dicono? Studiamo questi meravigliosi mezzi per sviluppare tecnologie e prevalere su tutti con la guerra. Quindi quelli ragionano così. Questo è evidente, comunque è stata una loro volontà. Assolutamente sì, la loro tecnologia è perfetta. Nel caso di quell'astronave abbattuta era una civiltà molto vicina a noi, cioè non erano gli esseri quelli cosmici, era una civiltà del nostro sistema solare. Grazie. Prego. Grazie.